Prima era tutto più facile, lavoravamo tranquilli, eravamo meglio, tutti pagavano e mute, ammaccato. Poi, non lo so cosa è successo. Che? Mi stava restando? Oggi ho capito, loro sono sempre di più, si sono organizzati. Guarda, guarda quanti sono. Oggi ho capito, non pagare il pizzo è una questione d'onore.